Cosa mi hai detto? Allora, ci troviamo con Armando Dash che vuole lasciare un pensiero sul grande Pino Daniele, vai! Che con la scomparsa di Pino Daniele Napoli ha perso l'80% della musica. E poi? E poi va bene così, in bocca al lupo per il futuro. Ok, ciao ciao!